grazie grazie Igor buonasera a tutti benvenuti questa come sempre in questi periodi è un'iniziativa di impiego perché l'iniziativa che avevamo pensato era prevedeva in presenza di vederci oggi pomeriggio a Milano di continuare per tutto il primo dicembre collegando il premio Pavone ai cantieri della Resistenza quest'anno avevamo cambiato formula rispetto a quella dell'anno scorso nel senso che le due iniziative erano disgiunte cioè i partecipanti al premio Pavone sono stati dieci e sono stati giudicati da una giuria scientifica i partecipanti ai cantieri della Resistenza che sono dieci più un'aggiunta di due persone che non sono state selezionate ma hanno proposto loro delle iniziative sono stati selezionati un'altra giuria e avrebbero presentato dei paper discussi poi in presenza con una relazione introduttiva di Facebook naturalmente non si è potuto fare però abbiamo deciso di rinviare i cantieri della Resistenza ad aprile sperando con un po' di ottimismo che in quella data ci si possa effettivamente incontrare di persona ma abbiamo deciso di mantenere la proclamazione del premio Pavone per il 2020 con l'iniziativa di oggi collegando oltretutto la proclamazione dell'opera vincitrice del premio alla presentazione di due volumi uno il numero uno due di parole chiave del 2019 e la parola chiave appunto chiaro che è Claudio Pavone curato da Mariuccia Salvati e poi un volume uscito da Volati Berringhieri curato da Davide Pilussa eh gli uomini e la storia una selezione di ehm scritti eh di Claudio Pavone quindi eh procederemo così io leggerò ora eh proclamerò eh la vincitrice del premio e leggerò la motivazione eh per cui eh l'opera è stata eh ritenuta eh la migliore tra quelle eh presentate eh ricordo che hm il premio consiste nella pubblicazione del del dell'opera nella collana che l'Istituto Nazionale ha eh aperto con Riella e che è stata da poco inaugurata con un libro del direttore scientifico Filippo Focati. Dopodiché darò brevemente la parola a Sabina Pavone e quindi chiusa la cerimonia diciamo di proclamazione della vincitrice eh presenteremo i due volumi dando prima la parola ai due curatori nell'ordine a Mariuccia Salvati a Davide Vidussa e poi interverranno Mirco Cavettiere e Santo Fedi. Eh Filippo Focardi che avrebbe dovuto coordinare questa seconda parte non può essere con noi per un sopraggiunto impegno familiare quindi quindi coordinerò io anche questa seconda parte. Allora procedo alla lettura della motivazione dell'opera della proclamazione della vincitrice alla motivazione per cui è stata ritenuta all'unanimità dalla giuria scientifica l'opera più eh meritevole. Il premio Pavone per il duemilaventi è stato vinto da Laura Bordoni che ha presentato eh la sua tesi di dottorato discussa all'Università di Pavia dal titolo la giustizia di transizione in Italia l'esperienza delle corti d'assise straordinarie lombarde 1945-1950. Laura Bordoni è connessa con noi magari poi daremo anche brevemente la parola a lei. Allora il lavoro si inserisce in un filone di studi relativo alla punizione dei crimini fascisti repubblicani che recentemente ha visto una ripresa di studi connessi alla definizione di giustizia di transizione. Le ricerche sulle corti d'assise straordinarie sono peraltro ancora all'inizio e la Bordoni aveva già partecipato a gruppi di studi e convegni sul tema. Il suo lavoro colmò una lacuna relativa a una delle regioni più significative per questa tematica, le cui vicende sono tuttavia correttamente connesse dall'autrice al contesto nazionale. Si tratta quindi di una trattazione nuova e originale. Il tema è complesso, necessita di buone competenze in materia giuridica e di un corretto inquadramento storico che consenta di andare oltre le poche e spesso poco fondate, conclusioni cui è raggiunta la storiografia precedente e l'ultima ripresa degli studi. Bordoni riesce ad affrontarlo con sicurezza, ad analizzarlo in tutte le sue complesse sfaccettature, dimostrando una sicura padronanza degli strumenti della critica storica e una buona conoscenza anche dei risvolti giuridici delle problematiche affrontate. L'impostazione metodologica è corretta e le consente di raggiungere significativi e innovativi risultati interpretativi, superando il giudizio liquidatorio che sulla punizione dei crimini fascisti era condiviso da buona parte della precedente storiografia. Nesce un quadro molto più mosso e variegato che, pur ribadendo il sostanziale fallimento delle politiche della punizione, è in grado di ricostruire convincentemente le varie dinamiche che lo causano, i diversi soggetti, politici, magistrati, avvocati, coinvolti nelle politiche punitive, il sovrapporsi di atteggiamenti di sostanziale acquiscienza alle tesi difensive degli imputati e di obiettivi e carenze strutturali degli organismi preposti al giudizio dei crimini. Nella ricostruzione a tutto tondo di Laura Bordoni, le variegate posizioni degli attori storici trovano una collocazione in grado di restituire tutta la complessità e anche la drammaticità della dialettica politico-giudiziaria con, sullo sfondo, le richieste di giustizia, anche sommaria, da parte di chi aveva subito gravi violenze negli anni dell'occupazione tedesca e della Repubblica Sociale Italiana. L'ampiezza delle fonti utilizzate da Bordoni è veramente notevole. Suo merito poi è aver utilizzato, oltre alle sentenze e ai fascicoli processuali delle corti, la documentazione prodotta dal commissariato alla giustizia del Comitato Lombardo del CLN, che le ha consentito di illustrare la dialettica fra pressione politica e risposta giudiziaria e, quando disponibili, anche i fascicoli personali dei magistrati preposti alle corti. La bibliografia è aggiornata e Bordoni dialoga sia con gli studi più recenti, sia con la storiografia più datata, in maniera approfondita e convincente. Il lavoro è scritto con chiarezza, la narrazione scorre in maniera fluida e stimolante. In conclusione si tratta di una ricerca fondata su un'ampia utilizzazione di fonti archivistiche, un'approfondita conoscenza della storiografia, un corretto approccio metodologico che apporta un significativo accrescimento delle conoscenze storiche sul tema. Per tali motivi, la commissione giudicatrice all'unanimità dichiara il lavoro di Laura Bordoni, vincitrice del premio Pavone 2020. Complimenti a Laura Bordoni. Sabina? Buonasera a tutti. In primo luogo mi complimento anche io con la vincitrice di quest'anno del premio Pavone. mi fa particolarmente piacere che si apre quest'anno una tesi di dottorato, anche perché, come sapete, per i dottorandi non è un bel momento, non solo per i ricercatori in generale, ma soprattutto per i dottorandi che non vengono riconosciute la loro difficoltà di ricerca in questo momento. Quindi mi fa piacere sostenere, insomma, la loro posizione. E voglio mandare anche, fra l'altro, un abbraccio particolare a Alessandro Sant'Agata, che ha vinto il premio l'altro anno, perché è stato un anno particolarmente duro per lui. E soprattutto voglio evidentemente ringraziare l'Istituto Nazionale, Nazionale, perché appunto questo premio, poi in una giornata come oggi, insomma, già mi trema la voce, perché comunque mio padre avrebbe compiuto 100 anni, quindi è sicuramente una data, e lui fra l'altro ci teneva molto ad arrivare a 100 anni. Era una di quelle persone che non considerava che in qualche modo di aver fatto la sua vita, no, lui avrebbe continuato volentieri, almeno fino a 100. E quindi ringrazio, appunto, anche da parte delle mie sorelle che ci stanno seguendo, Liberiana e Flaminia, per questo premio, appunto, soprattutto un premio che ha rivolto ai giovani, alle ricerche dei giovani. Il papà ha sempre avuto una grandissima curiosità per i giovani, ha sempre avuto proprio questo spirito di apertura, li ha seguiti, e non a caso, diciamo, io continuo anche ad approfittare di tante relazioni che lui ha creato e che si porta dietro ancora adesso, di cui io in qualche modo sono testimone e anche ne approfitto, diciamo, per aver creato tanti rapporti anche di amicizia. Quindi davvero grazie all'Istituto Nazionale, sono molto contenta anche che si presentino oggi questi due lavori. Ringrazio David Vidussa per aver pensato questo libro, Gli Uomini e la Storia, perché veramente rimettere in circolo anche una serie di saggi che costituiscono davvero le premesse anche di quella che sicuramente è l'opera più importante di papà, cioè una guerra civile, ma che forse sono meno noti, meno conosciuti al grande pubblico. E di avermi anche coinvolto, diciamo, in questa avventura generosamente. E ringrazio ovviamente Parole Chiave, che è la rivista che papà ha diretto per tanti anni, e Mariuccia Salvati, che ha voluto curare questo numero dedicato a papà e tutti coloro che hanno collaborato, ancora una volta, attraverso le generazioni, perché anche il numero di Parole Chiave è costruito proprio con un percorso intergenerazionale. Vediamo qui poi molti dei partecipanti a questo numero. Ringrazio per tutti i Mirko Carrettieri che è qui e che si è occupato e si occupa molto del treno Pavone. E buon lavoro a tutti, grazie ancora. Grazie, grazie Sabina. E ancora chiederei a Laura Bordoni se attiva microfono e telecamera e magari ci dice qualcosa. Sì, grazie mille. Vorrei ringraziare la giuria per questa opportunità di pubblicare il mio lavoro. e vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato in questa ricerca, a partire dal mio relatore, il prof Pierangelo Lombardi, e tutto il gruppo di ricerca con cui ho avuto modo di approcciarmi negli anni scorsi. È stato un lavoro veramente importante per me, spero di poterlo continuare. È un momento piuttosto difficile, come si è detto prima, rispetto alla ricerca. e veramente questa è un'ottima notizia per me e spero lo sia anche per tutti gli altri dottorandi che ci possa essere una ripresa presto dei lavori e che si riaprano gli archivi, le biblioteche e che tutto possa riprendere al più presto. Grazie mille. Grazie, grazie Laura. Tra l'altro vorrei sottolineare che si tratta di un tema che ben si inserisce nei filoni di ricerca di Claudio Pavone, sia perché fa dialogare diritto, storia del diritto e storia, sia per i temi della continuità dello Stato che Claudio aveva approfondito. Bene, chiusa questa cerimonia, non dopo aver detto che da quest'anno però abbiamo deciso di rendere il premio biennale, quindi il prossimo premio sarà nel 2022, passiamo alla presentazione di queste due opere, cominciando appunto dal numero 1-2 del 2019 di parole chiave, la parola chiave appunto è Claudio Pavone, quindi do la parola a Maricia Salvati che ha curato. Mi sentite? Tutto a posto? Ok, grazie. Io ringrazio moltissimo di averci invitato a partecipare e a presentare il nostro numero dedicato a Claudio Pavone. cercherò di raccontare un pezzo della sua storia praticamente, perché Parole chiave viene fondato nel 2001-2002, scusate, ma già precedentemente Claudio Pavone partecipava ai lavori della Fondazione Basso e anche alla rivista precedente, cioè Problemi del Socialismo. con Claudio si fonda questa rivista che prende questo nome strano, ecco, non è strano ed è qualcosa su cui, diciamo, ci ho messo qualcosa di personale da anglista, perché ho pensato a parole chiave come keyword, che è una tipica parola, che è una parola inglese che ha dei significati forse ancora più densi che per noi, soprattutto grazie a un grande autore che è Raymond Williams, che ha scritto un testo, keywords, e lavorando a questo, quando esattamente lo racconta, a ritorno, dopo essere stato appunto combattente durante la Seconda Guerra Mondiale, a ritorno della Seconda Guerra Mondiale, e rendendosi conto che praticamente, diciamo, lui dice, parlando con un proprio collega, non si parla più lo stesso linguaggio, è cambiato il linguaggio, bisogna lavorare sul linguaggio, e scriverà appunto questo fondamentale libro che si chiama Parole Chiave. Ecco, e da qui nasce appunto anche questo intreccio soprattutto, perché per Raymond Williams questo linguaggio va ristabilito a partire da un rapporto che si deve essere più stretto tra cultura e società, e questi sono i temi appunto di Williams. Ecco, le prime parole, ve le ricordo, perché la rivista parte con un enorme entusiasmo, da prima con Donzelli, e questo credo che sia stata veramente così, così, da quel momento diciamo c'è un rapporto molto stretto con la Fondazione Basso e con la rivista e teniamo conto che appunto la rivista nasce dopo che Pavone ha pubblicato il suo libro e in qualche modo poi lo riflette. La cosa interessante, come cercherò di mostrare, è anche come il modo di trattare le parole come parole chiave corrisponda al modo stesso con cui lui le ha usate nel suo volume e riprendendo anche alcune di queste parole e quindi riflettendoci sopra. Ecco, il problema appunto di ritrovare, come diceva Raymond Williams, un linguaggio, ecco, un rapporto, ecco, tra le parole, tra le parole e i fatti per poterne anche discutere con gli altri. ma appunto in Williams il problema era che il linguaggio si corrompe perché riflette realtà diverse e non più collegate e questo rappresenta il collasso di una comunità. Ecco, perché le parole sono lo strumento che ci permette di costruire una prospettiva condivisa. Ecco, si pensi a come da anni si discute tra gli storici dalla crisi di una necessaria ancorché continuamente rivista narrazione repune, nazionale, un'esigenza fortemente sentita da Pavone, grande storico dei due momenti di crisi e di definizione di questa narrazione, cioè risolgimento e resistenza. Ecco, quindi, diciamo, ci troviamo, è abbastanza, non è stato complicato ecco, decidere che almeno per gli storici che appartengono alla rivista, decidere che la parola Claudio Pavone è appunto una parola chiave. Ecco, è una keyword. E l'operazione infatti funziona, si vede anche da come è nato il numero. particolarmente poi, diciamo, descrivo appunto rapidamente il contenuto, vi sono le due colleghe archiviste di Pavone, l'amica di una vita, Isabella Zanni Rosiello, naturalmente, che ha come titolo su Claudio Pavone che ha preso molto sul serio il lavoro archivistico. E la più giovane amica nisticò che giustamente il titolo e il suo saggio testimonianza, i documenti resistenziali delle brigate Garibaldi come fonte privilegiata. Ed ha ragione, perché il lavoro archivistico, hanno ragione entrambe, il lavoro archivistico è stato, come dire, intanto un suo modo di intervenire nella società civile e di lavorare attivamente in funzione dei compiti che al cittadino competono. Non dimentichiamo il grossissimo lavoro che Pavone ha dedicato appunto alla difesa e come dire degli archivi alla loro, alla loro, come dire, alla raccolta, alla implementazione. Diciamo, l'archivio è una battaglia civile, è una grande battaglia civile e quindi è parte ecco della sua identità in maniera molto forte. Isabella Zani-Rosello è lì a dimostrarlo, è stata sua collega sempre, ma anche in qualche modo un altro banco di prova è appunto sono le fonti delle brigate Garibaldi, ecco perché ha ragione anche l'anisticò a dire questo lavoro sulle brigate Garibaldi gli ha dato degli strumenti e noi sappiamo bene che alcuni dei dèi appunto che nel suo grande tavolo che si ricorda appunto Sabina della casa in cui era pieno c'erano decine e centinaia di fogliettini e tutti terrorizzati che se si apriva una finestra e si volavano i fogliettini partiva un lavoro di decenni insomma ecco e questi fogliettini erano i continui richiami che il lavoro tra il suo lavoro di archivista e il suo grande lavoro di storico era la sua documentazione la base del suo lavoro e in questo senso io diciamo dico su poi spiego meglio anche gli altri partecipanti non abbiamo voluto dedicare in questo numero un saggio specifico al volume di Pavone è per quello che racconto questo che sembra essere come una specie di rosario attorno a un centro ecco che è il grande libro ma così era così doveva essere ecco il libro non so come dire la storia di questi anni appartiene anche alla rivista parole chiave ma quel libro non appartiene a parole chiave quel libro appartiene a Pavone è tutta la sua vita insomma appartiene all'Italia al mondo insomma e quindi questo è diciamo gli altri colleghi come sono che sono stati coinvolti sono in genere in questo caso sono colleghi più giovani che sono stati anche allievi testinoni penso a Bidus che parlerà dopo con un bel saggio interessante su autogoverno e partecipazione badate la cosa che viene fuori anche da tutti questi saggi che confluiscono nella rivista è ovviamente lo stretto rapporto che esiste con la produzione di Claudio che è anche molto vasta al di là di quel libro e quindi per esempio Francesco Riccobono scrive sulla continuità dello Stato Bresciani che è più giovane scrive sul risorgimento tra fascismo e antifascismo ma anche appunto Bistarelli sulla famiglia Pavone poi appunto c'è un ricordo del suo lascito di insegnamento per un'ex allieva Katia Sonetti la descrizione del fondo Pavone alla CS di Giorgia di Mercantonio e rappresentante di una innovativa archivistica in modelli di Federico Valacchi vi è poi vi sono altri saggi come io spero come quello di Monina sulle collaborazioni di Pavone alle riviste negli anni dell'immediato dopo guerra la verità e discussione e discussioni mentre uno storico che è entrato dopo la sua scomparsa Mauro Campus sottolinea l'impegno e la densità della sua prima lezione di storia contemporanea Vieto Masodetti che ricorda la sua presidenza alla Cisco e ricostruisce la stagione appunto molto intensa di quella presidenza mi ricordo che che fu allora si fece allora appunto un convegno sul novecento e questo appunto era che fu poi anche su un volume insomma questo grande convegno che poi è diventata anche una parola chiave e un volume a sé stante ecco quello che poi ho voluto inserire anche in questa in questo fascicolo sono le recensioni che sono state fatte però al volume anche se non abbiamo messo diciamo il volume e la e sono molto interessanti perché sono ci sono le recensioni francesi e le una testimonianza di Vittoria De Grazia uno scritto molto bello che racconta la difficile traduzione del libro di Pavone ma che poi in fondo dice anche se è arrivato più tardi di quando è stato pubblicato quindi dai primi anni 90 si riuscì a pubblicarlo dieci anni dopo in realtà poi finì per intercettare una stagione di riflessioni storiche successive anche interessanti come quelle di Istvan Dic di Vivi Orca e questo forse la in qualche modo anzi all'estero l'ha reso ancora più attuale e e quindi fruibile vorrei 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 riprendere una la parte finale della premessa io spero di aver ricordato tutti sicuramente avrò sbagliato qualcosa perché questi sistemi telematici mi confondono un po' l'idee ma vorrei ricordare finire ricordando quella che è stata una delle prime recensioni e a mio parere fosse ancora una delle migliori al libro di Pavone che ripeto non abbiamo messo all'interno del nostro fascicolo come oggetto ma che è continuamente presente e contribuisce a dare l'idea di come appunto Pavone sia diventato Pavone abbia potuto scrivere quel libro lì perché dentro c'erano molte altre cose su cui ha lavorato però appunto mi sembra che queste frasi delle recensioni uscita sul manifesto di Pavone siano assolutamente ancora attuali nonostante la sua mole e i mille rivoli in cui si diffonde il volume è un unico articolato ragionamento attorno al tema della scelta che non a caso lo apre la risorsa storiografica è usata fino in fondo fino a toccare i limiti che le sono propri ma a un certo punto si ritrae e delega a chi legge ad altre categorie e ad altre discipline il compito di andare oltre mi sembra che questa osservazione spieghi nel modo milione quale ricchezza abbia potuto rappresentare la presenza la direzione di Claudio Pavone nella rivista parole chiave Pavone accettò la direzione della rivista in coincidenza con l'uscita del libro nel 91 92 non è dunque un caso che alcune delle più importanti parole chiave che sono poi raccolte in archivio di questo fascicolo siano state suggerite proprio dal retroterra storico di un direttore per il quale la storia italiana ed europea degli ultimi due secoli era nutrita non solo di guerre civili ma di culture condivise non solo di conflitti etici ma di visioni etiche non solo di grandi masse ma di scelte compiute da singoli individui storico delle istituzioni Pavone scrive il più grande libro di storia sociale e culturale della guerra civile italiana ed europea trasformando la resistenza in un lieu de mémoire attorno a cui si era costruita una comunità non solo nazionale ma anche egli sperava scrivendo un saggio che la seconda guerra mondiale è una guerra civile europea poi pubblicato nel volume a cura di Renzato appunto europea del resto questo era il senso di quella lecuzione luogo di memoria per Morisa Vax che la teorizzò in campo di concentramento alla vigilia della sua morte avvenuta a Buchenwald il 16 marzo 1945 e spero di avervi dato almeno una vaga idea della ricchezza anche di questo numero in cui appunto abbiamo si è fatta questa scelta ecco vorrei solo ancora ricordare vi ero scritta altre cose come come quei vent'anni di lavoro con lui con la rivista siano stati di grandissima importanza per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di condividere appunto questa piccola comunità che è parole chiave molto formativi belli a volte anche enormi discussioni per mi ricordo un numero sulle parole delle cose insomma cioè con Claudio fino alla fine si è discusso per fortuna cioè si è vissuto ecco grazie 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 a Mariccia Salvati procediamo subito diamo la parola a Davide Vidussa che invece illustrerà il volume da lui curato il nome nella storia una raccolta di scritti di Claudio Paolo grazie tante cose che avrei voluto dire più o meno le ha già illustrate Mariccia Salvati perché in fondo il profilo del volume che ho tentato di costruire anche tentando di coinvolgere perché poi quando uno pensa a un libro lo deve anche pensare non solamente per sé lo deve anche pensare per chi lo leggerà ma anche per chi ha vissuto vicino a chi in un qualche modo quel libro ha contribuito a farlo io ringrazio Sabina Pavone d'aver mi ascoltato o di avermi dato parte del suo tempo per discutere almeno un'impostazione di un indice allora qual era l'obiettivo di questo libro e qual è allora questo libro diciamo è nato da un altro libro che per me è stata una palestra questo libro io mi sono trovato grazie a alla gentilezza o se volete anche all'attenzione umana di Franco Sbarberi un po' di anni fa Franco stava mettendo insieme la discussione e il confronto che è durato anni tra Claudio Pavone e Norberto Bobbio sul concetto di guerra civile ed è un confronto che nasceva diciamo da una passione comune che si è incontrata per caso durante la seconda metà degli anni Ottanta e lungo l'anno Novanta quando mi sono trovato davanti ai materiali che poi sono confluiti in questo libro che è uscito anche lui per Bollati Boringhieri si intitola appunto sulla guerra civile che contiene sia alcuni saggi di Bobbio sia alcuni saggi di Pavone sia lo scambio epistolare tra i due intorno al concetto di guerra civile la cosa che a me è sembrata emergere da quel confronto era la cultura che ci stava dietro la sensibilità che ci stava dietro e la cosa che secondo me era importante quando ho provato a guardare la bibliografia complessiva che Isabella Zanirosiello ha fatto in un volume che ha raccolto molti scritti di Claudio ma che come grandi volumi voluminosi nel senso di tante pagine in Italia non hanno più circolazione o ne hanno pochissima questo volume è uscito per la collana della rassegna degli archivi di Stato ma si trattava diciamo in qualche modo di dargli vita a dei saggi che avevano perso un pubblico ma che erano destinati a far riflettere non necessariamente solo una incorporazione di professionisti cioè non solamente degli storici ma diciamo in qualche modo delle persone colte allora inizialmente io sono partito dall'idea che se è vero come ha ricordato anche Mariucce una guerra civile è anche la sintesi di tanti studi e di tante sensibilità che sono durati circa 40 anni perché da primi scritti diciamo dalla fine degli anni 40 in un qualche modo ci sono già degli elementi di parole chiave che arriveranno lì in quel volume e tuttavia quegli scritti ogni tanto Claudio sentiva il bisogno secondo me di dare figura a quelle parole e di radunarle intorno a un fenomeno storico o un evento storico o un momento di una generazione magari anche passata in cui quella parola era storia di un vissuto allora la prima operazione che ho fatto è stata quella di andare a prendere complessivamente questa bibliografia e capire quali uno storico che oggi sta sotto i 30 anni indipendentemente da ciò di cui si occupa può occuparsi di 800 di primo 900 di fine 900 se volete anche di 700 cosa gli serve di quella produzione e mi sono fatto un elenco di 10 pezzi che ora vi leggerò semplicemente di questi 10 ne sono rimasti 5 che sono finiti in questo libro allora io mi sono fatto un primo elenco di questi 10 di questi testi e ho pensato benissimo guardiamo questi testi e provo a darli a ciascuno di essi non dico una parola chiave perché non voglio rubare il titolo a qualcuno ma diciamo in un gergo da internet di metterci accanto un hashtag ok allora vi leggo questo elenco e vi dico gli hashtag che gli ho messo accanto il primo testo era quello sulle idee della resistenza che Claudio pubblica in passato è presente nel 1959 e per me la parola chiave era identità italiana poi gli ho messo quello che poi apre invece il volume di Bollati che si chiama appunto Aspetti della democrazia risorgimentale Mazzignani Garevo Aldini e internazionalisti nei primi anni dell'unità per me il tema era delusione malinconia era tu torni a casa e quando tu torni a casa ci torni fra virgolette sapendo che la cosa per cui è combattuto è arrivata a un fine ma tu sei un escluso da quella storia o diventi marginale in quella storia poi ce n'era un terzo saggio enorme che lui pubblica a metà degli anni 60 nella segna degli archivi di Stato si dice l'astrografia sull'Italia postunitaria e gli archivi del secondo dopoguerra dove comincia a esserci un incrocio tra queste due aree molto interessante ed era per me era cos'è un archivio come si costruisce un archivio che corrispondeva faceva da interfaccia a un saggetto di quattro pagine che è stato per me fondamentale quando mi è stato messo in mano è stato messo in mano nella prima volta il primo anno dell'università da Claudio il saggio si intitola ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto quattro pagine che secondo me sono fondamentali per capire cosa è non cos'è un archivio ma qual è come dire gli inganni che ti dà sfogliare un archivio e per cui l'inganno è pensare che lì dentro trovi tutto e che ciò che trovi lì non solo è tutto ma è la spiegazione di tutto Claudio diceva benissimo trovi un archivio comincia la storia non finisce lì tu devi averci le domande tue in testa devi guardare gli occhi devi uscire con le cose che guardi oltre quelle carte devi interrogarle da un'altra parte perché quell'archivio ti racconterà solo un pezzo di quella storia ti racconterà quello che ha ordinato quell'archivio vuole che tu legga tu invece devi interrogare sia come quell'archivio è composto cosa non contiene e quindi la prima domanda che devi farti è cosa non c'è qui e dov'è quello che non c'è qui il saggio successivo che avrei voluto infilare in questa in questa raccolta che invece poi per fortuna è uscito dentro il numero di parole chiave è un saggio che si chiama Narrazione e spiegazione storica ed è un intervento piccolo che Claudio fa a un grandissimo seminario sulla come si fa la narrazione storica che avviene alla Fondazione Basso nei primi anni 80 un altro saggio era la continuità dello Stato e il tema era se la resistenza è tradita punto interrogativo questo era l'hashtag per me mentre quello della narrazione e spiegazione storica fatta dalla Fondazione Basso per me l'hashtag era scrive storie poi c'era un altro saggio che lui scrive nel 91 un tratto socialismo e suffrage universale perché lì il tema essenziale era se rompere l'idea che la sinistra o la storia o la tradizione socialista fossero suffragisti arresti sempre anche su questo lui aveva dei dubbi e il tema era sinistra e individualità per me era la chiave su cui lui lavorava poi c'era quello chiaramente sulla zona grigia che la chiave è la zona grigia c'era uno che è quello della relazione che lui tiene a Siena nel 1998 su fascismo e dittature totalitarismo per me era la parola chiave e quello sull'elaborazione della memoria che era un tema su come si costruiscono i patrimoni come se i musei o le raccolte museali vanno a raccogliere materiali che per me erano memoria e le cose e che io ho scoperto per via di un altro grande storico che credo sia stato anche in stretti rapporti con Claudio negli anni 90 questo storico è Christoph Pomian perché negli stessi anni Pomian si fa lo stesso tipo di domande cioè si chiede cos'è una collezione come si costruisce con quale progetto ha cosa significa che metto le cose insieme cosa io vado a cercare per metterle insieme che domande io ho in testa e alla fine che tipo di domande emergono una volta che io le ho messe insieme a chi le guarda il lavoro che io ho fatto cosa è comprensibile da averle messe insieme allora perché secondo me e dopodiché si trattava di trovare un titolo a questa roba non lo volevo chiamare scritti di storia allora il tema per cui è diventato gli uomini e la storia perché io credo che questi alcuni di questi saggi o quelli che in qualche modo sono confluiti in questo libro è come se ti dicessero vuoi studiare storia bene fatti delle domande non vai a cercare delle risposte fatti delle domande e fatti delle domande vuol dire ci sono delle cose che tu vedi tu imparerai a studiarle se quello che vedi per te non sarà evidente guardate non è una pensata personale nella mia vita uno dei momenti fuori dall'Italia che ho avuto è stato quello di essere stato formato da un teorico della letteratura che è stato il mio professore che mi ha guidato durante il mio PhD a Gerusalemme questo signore che oggi ha 91 anni si chiama Tuvi Aschlonsky una volta mi ha detto se tu vuoi capire come funziona un romanzo devi domandarti perché il titolo non ti racconta il romanzo e lui mi dice guarda ti faccio un esempio prendi Anna Karenina Anna Karenina e te leggi Anna Karenina non è la storia di Anna Karenina è il problema se lei vuole essere o no Anna Karenina e quindi il problema non è se il titolo mi dice il contenuto ma se il titolo è la spia indiziale di qualche cos'altro se mi faccio delle domande mi ha detto un altro che per me è stato fulminante mi ha detto perché secondo te perché il romanzo che ha per protagonista d'Artagnan si intitola i tre moschettieri di uno che non è moschettiere e non è nemmeno uno dei tre è un altro allora se tu vuoi ragionare sulle narrazioni non devi interrogarti sulla sintesi delle narrazioni ti devi raccontarti tra ciò che una narrazione ti propone ciò che tu in base al fatto che ha una titolazione sei indotto a pensare cosa vedi e cosa non vedi e tu quest'elenco di ciò che vedi cosa non vedi come interno di una fonte è esattamente secondo me la grande scuola di Claudio Vavone questa è la scuola di Claudio Vavone lo puoi fare e la puoi applicare su molte cose questo libro in un qualche modo per me è stato anche un esercizio di scegliere cinque hashtag su cui lavorarlo e su come portarmi a casa una cassetta di strumenti questo è cioè non è non è molto più di questo però in un tempo in cui la maggior parte dei prodotti storiografici vogliono essere come dire epatelle bourgeois devo raccontare spaccare le certezze no qui si tratta semplicemente di fondare un mestiere che è un'altra cosa è ancora prima delle certezze o prima ancora di rompere le vetrine delle certezze si tratta di sapere come dire avere la curiosità un grande storico è uno che ha delle domande non uno che ha le risposte uno che ha le risposte è semplicemente uno che mi vuol vendere un prodotto confezionato uno storico non vende prodotto confezionato il suo obiettivo non è quello di dire l'ultima parola il suo obiettivo secondo me che è quello che ha in testa Claudio Pavone è quello di distribuirti la penultima parola e di sapere che è penultima e cioè che quello non è il proprietario del velo è semplicemente in un qualche modo uno che ti fornisce delle suggestioni dopo tu devi camminare con le tue gambe è quello che secondo me Claudio Pavone ha fatto con gran parte dei suoi allievi è quello di avergli piano piano dato una spinta e avergli detto ora camminate grazie 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 anche a David Vidussa e do subito la parola per due interventi sui volumi a stretto ordine alfabetico prima a Mirko Carattieri e poi a Santo Pente Mirko sentite? sì allora buonasera a tutti un caro ringraziamento a tutti i partecipanti grazie a Mariuccia e anche a Giancarlo e a David per aver accolto il nostro invito un saluto alla famiglia Pavone complimenti a Laura Bordoni e devo dire anche a tutti i partecipanti vorrei ringraziare anche gli altri partecipanti per il primo Pavone molti dei quali sono collegati così come candidati ai cantieri della resistenza proprio per le difficoltà dei giovani ricercatori che citava Sabina e che vale sempre la pena di ribadire venendo al merito qui l'ordine alfabetico mi ha fatto cattivo gioco perché devo parlare dopo Vidussa che è sempre complicato però dico alcune delle cose che mi sono segnato leggendo i due i due testi che presentiamo intanto quello che secondo me li accomuna e che li rende di grandissimo interesse per una discussione anche generale è che in questi volumi si riprende quello che Pavone aveva da dire che oggi molto ci dice sul rapporto tra storia e memoria un rapporto molto forte che in questo momento è al centro anche di molte pubblicazioni e in cui però dalla voce di Pavone riusciamo a cogliere non solo i motivi per cui esse sono distinte come ormai molta storiografia ci dice ma il motivo per cui pur essendo distinte noi dobbiamo continuare a collegarle e capire come dice anche Davide nella sua introduzione come si collegano e quindi qui sono molti spunti importanti indico solo alcuni per esempio la distinzione tra il rapporto con la storia che hanno le memorie individuali e le memorie collettive e a mediare tra queste due memorie un tema molto blocchiano che c'è in Claudio che è la generazione la generazione come mediazione tra la memoria individuale e le memorie collettive un altro tema molto interessante è quello della memoria proiettiva la memoria delle generazioni successive a quelle dei testimoni effettivi e un altro problema ancora che viene accolto da Paolo da Claudio è il rapporto tra lo scarto tra la banalizzazione e la sacralizzazione della memoria tutti i temi di grande attualità la cosa che mi ha colpito di più però forse perché in questa fase come Paolo sa siamo continuamente impegnati in sollecitazioni museali è proprio la ripresa del tema delle memorie e le cose dal nome del numero di parole chiave da cui era partita questa riflessione viene ripresa anche da David nell'ultimo saggio raccolto che è spiena un convegno su luoghi di memoria è stato ottenuto un convegno su luoghi di memoria perché c'è questa riflessione sul rapporto tra la memoria e le cose le cose come oggetti che evocano memoria ma al tempo stesso come punti fermi che fanno frangere per così dire le onde le onde della memoria mi sembrano tutte considerazioni di grande interesse e leggendo il libro di Davide questo titolo gli uomini nella storia ho pensato che gli uomini a cui lui fa riferimento ovviamente a cui Claudio Pavone faceva riferimento sono sicuramente gli attori della storia quegli attori che nei suoi libri si trovano a dover coniugare delle idee dei dolori e tradurli in azione questo è molto evidente nelle scelte dopo l'otto settembre ma è un po' una cifra costante non è solo gli uomini non sono solo gli attori ma sono anche lo storico gli storici di fronte alla scelta delle delle loro fonti del come utilizzarle e anche del come scrivere la storia un altro aspetto molto importante su cui David ha attirato l'attenzione e direi di più che in questi saggi riemergono anche altre figure di uomini poste di fronte allo stesso problema ne cito solamente due che sono molto molto citate da Pavone intanto il Reduce è un'altra figura molto importante in Pavone nella sua ricerca storica e il Reduce è il primo che racconta il passato e quindi fa un'operazione di recupero e narrazione che anticipa per molti aspetti quella dello storico e l'altra figura è quella dell'archivista chiaramente l'archivista che trasmette la memoria e lo fa però decontestualizzando e ricontestualizzando sempre il documento anche questa è una grande lezione che l'archivista Pavone riporta dentro il lavoro dello storico Pavone come diceva Mariuccia effettivamente il numero di parole chiave non chiama in causa direttamente una guerra civile eppure c'è moltissimo di questo c'è molto del prima e del dopo della genealogia per usare le parole di David per esempio vorrei ricordare perché Mariuccia come al solito Modesta non l'ha fatto che nel volume c'è anche un suo saggio che parla che parla del saggio del 59 appena ricordato da David il grande saggio sull'idea del risorgimento nella resistenza è un saggio molto importante questo di Mario Cersatti perché ci riporta alla questione dell'identità nazionale e al tema costante dell'identità nazionale nella riflessione di Pavone centrato sui due momenti chiave della storia nazionale come diceva lei e nella raccolta riprende questo tema secondo me molto bene lo ringrazio visto che è anche qui presente Marco Bresciani in un saggio molto raffinato sulle dinamiche storiografiche attorno al rapporto tra nazione ed Europa da direttore del Parri devo dire che in questi due raccolte ci sono anche molti elementi che ci riportano al nostro lavoro cito brevemente intanto il saggio di Giorgia di Marcantonio sul fondo Pavone il Pavone non pubblicato che sta all'archivio centrale dello Stato quando sarà tutto ordinato sarà una fonte anch'essa molto interessante una delle sezioni di questo fondo archivistico è proprio dedicata al lavoro di Claudio all'ISMI ci sono molti riferimenti ai convegni a cui Claudio ha partecipato soprattutto nei primi anni 60 ricordando anche il famoso viaggio a Mosca passando per Praga e poi c'è una bella testimonianza già citata di Katia Sonetti nostra direttrice dell'istituto di Livorno che saluto e in ultimo nel saggio di Gabriella Nisticocchi faceva riferimento a Mariuccia c'è quella riflessione fatta negli anni 90 nella commissione archivi del Parvi sulla diplomatica del documento resistenziale la dico così come la dice Gabriella che è ancora un elemento molto importante su cui ha continuato a lavorare Paola Carucci e su cui probabilmente ancora abbiamo da lavorare e sull'importanza della raccolta delle brigate Garibaldi per il lavoro sulla storia della resistenza lascio al maestro Santopeli che sicuramente su questo può dirci delle cose migliori di me ultima cosa in questi volumi si fa riferimento a alcuni personaggi che hanno dialogato con Claudio Pavone con cui Claudio Pavone ha dialogato Norberto Bobbio è stato citato ci sono alcuni amici e compagni di lavoro di Pavone per esempio Luciano Cafagna o Vittorio Foa che escono molto bene da queste pagine da parole chiave ma è molto interessante il fatto che ci siano anche altri incontri di Pavone per esempio l'incontro con Parri che compare in diversi in diversi momenti non solo al momento di innescare la ricerca di Pavone su una guerra che poi gli evita una guerra civile ma in diversi altri momenti per esempio appunto è il Parri che è studiato da Norberto Bobbio un altro personaggio che compare che appartiene alla nostra storia è Guido Quazza David Bidussa nel suo saggio in parole chiave in questo caso non nel volume ci parla della iniziale convergenza e poi della divergenza nel corso degli anni 80 tra Pavone e Quazza su vari temi in particolare il tema della rivoluzione mancata della resistenza tradita non sono d'accordo su tutto quello che dice David ma è molto interessante questo 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 spunto così come molto interessante e questo davvero come dire ardito nel saggio di Vittoria De Grazia che è stato citato Pavone si viene confrontato con con Via Viorca o Dek ma viene confrontato anche con con chi con Angelo Tasca il libro di Pavone è confrontato con le origini del fascismo di Angelo Tasca su due temi importanti come il tatticismo del fascismo e l'antifascismo disarmato due questioni che ancora sollecitano la nostra riflessione quindi in conclusione questi due queste due raccolte ci riportano ci riportano attenzione tanti lavori di Claudio quelli precedenti a una guerra civile ma anche a quelli successivi non solo quelli ripresi da parole chiave ma anche ne cito solamente due molto importanti che vengono giustamente richiamati la raccolta sulle periodizzazioni del novecento nel convegno della Sisco di Roma del 96 e poi la prima lezione di storia contemporanea quel librettino la terza del 2007 che in realtà come le carte di cui ci parla di Marco Antonio ci dicono è un risultato di oltre 20 anni di riflessione e confronto con tanti con tanti amici quindi grazie molte per questo lavoro e ci ispira a nuovi spunti di ricerca grazie grazie amico Carattieri do subito la parola a Santo bene cercherò di essere estremamente sintetico anche perché è particolarmente faticoso per tutti restare a lungo in questa posizione davanti al computer i due volumi che sono stati presentati oggi rappresentano mi pare proprio una una circunnavigazione diciamo di quello che mi pare proprio il continente pavone insomma il continente abbastanza enorme ecco io tenterei semplicemente un attraversamento di questo di questo continente prendendo pochi spunti da alcuni dei saggi presenti soprattutto nel numero di parole chiave presentato da Mariuccia Salvati partirei dal da uno dei saggi dei saggetti che mi ha più direi proprio emozionato che è il ricordo di Claudio Pavone di Katia Sonetti perché è quello che diciamo fa fa emergere proprio con straordinaria plasticità il pavone il pavone docente diciamo il pavone insegnante soprattutto viene fuori questa qualità direi specifica del pavone che hanno constatato tutti quelli che hanno avuto il piacere il privilegio di accostarlo c'è una capacità naturale di dialogare alla pari qualunque fosse la collocazione sociale intellettuale qualunque fosse generazionale dell'interlocutore che era un modo di dare e di ricevere anche dagli interlocutori in particolare dagli studenti la sonetti racconta appunto come lei entra in tesi di laurea e chiede propone lei stessa un argomento sul quale dichiaratamente pavone non ha mai lavorato lei chiede farà una tesi sull'ilva di piombino tra gli anni 40 e gli anni 50 e sintetizza questo rapporto molto proficuo pavone stesso le dirà negli anni successivi io quello che so sulla siderurgia l'ho imparato insieme a te durante la tua tesi ecco questo modo di trasformare l'insegnamento in un reciproco arricchimento non è direi la cosa più diffusa più naturale dentro all'accademia italiana e probabilmente è una cifra certamente di pavone ma è anche indicativo di una postura intellettuale che soprattutto negli anni 70 e 80 comincia a nascere e rappresenta un segno di notevole novità ecco il suo rapporto con gli studenti mi ha sempre colpito per esempio leggendolo il fatto di trovare dei ringraziamenti in nota debbo questa suggestione all'intervento di una studentessa che in un seminario del 1985 ha fatto questa domanda ecco questo il che naturalmente indica la naturalezza di una diciamo così un'està intellettuale senza senza limiti per certi versi ecco oppure per esempio Vinzia Fiorino in un altro in un contributo invece che uscito in mestiere di storico impegno civile ricorda che quando scriveva la tesi di laurea trovava le correzioni di Pavone a margine se questo metteva se non gli piaceva un aggettivo che usavo metteva ne metteva tre non faceva mai una correzione di un solo aggettivo metteva tre con una parentesi graffa e lei giustamente dice questa parentesi graffa questa offrirmi una scelta fra tre aggettivi non soltanto uno indicava il fatto che stava insegnando a conquistare la propria autonomia e la propria libertà di scelta in realtà non imponeva nulla anche se naturalmente eccetera aggiungerei una cosa che imbalza agli occhi di questi nei racconti diciamo nei ricordi degli allievi il fatto che Pavone arriva all'insegnamento mi pare verso i 53 54 anni ecco e il trasferimento a Pisa non vuol dire che lascia quello che stava facendo continuerà in realtà ad avere degli impegni istituzionali anche come archivista di primissimo piano io credo che gli sia persino costato qualcosa in termini economici non ne so nulla ma certamente vuol dire aggiungere un altro impegno civile di militanza civile a una vita già estremamente intensa questa questa postura questa verso gli studenti non so non so se qualcuno potrebbe essere d'accordo molti potrebbero non essere d'accordo io penso che in quegli anni gli studenti molti studenti l'abbiano percepito con un etichettato se volete con un termine che adesso è assolutamente desueto e che allora si sarebbe detto sai che Claudio Pavone è un compagno ecco mi chiedo se questa se questa formula sarà stata utilizzata da qualcuno e Mariuscia Salvati nella sua bella introduzione al numero di parole chiave nota appunto che non è stato tanto mai sottolineato e meno noto dice lei l'impegno direttamente in politica di Claudio Pavone in politica vuol dire soprattutto un impegno che per qualche anno è stato probabilmente non occasionale con la democrazia proletaria per esempio nel 75 Claudio Pavone firma il manifesto di sostegno alla presentazione delle liste di democrazia proletaria alle amministrative guardando l'elenco delle firme di quel manifesto Ferraioli Fortini Eco Stefano Merli Sebastiano Timpanaro così fa venire fa ripensare a quell'epoca come un'epoca dove la militanza intellettuale non si arresta davanti diciamo così a un impegno politicamente più deciso la cosa curiosa è che quel manifesto di sostegno alla democrazia proletaria del 75 era firmato anche da Ernesto Galli della loggia nel 76 Pavone si candida a Roma e viene messo al 46esimo posto nella lista e prenderà 176 preferenze non era certamente destinato ai fasti della carriera politica tantomeno credo che ci tenesse minimamente però è interessante questo suo diciamo questa spendersi in prima persona diciamo così come si spende per esempio con numerosi interventi sul quotidiano dei lavoratori siamo negli anni settanti siamo negli anni negli anni settanta in cui come ricorda quel bel saggio della Gabriella Nisticò sta lavorando all'edizione critica dei documenti delle brigate Garibaldi anche qua esattamente come Katia Sonetti la cosa che balsa fuori nel rapporto personale diciamo è che lei dice io ero una ragazza di 22 anni e mi ritrovo a lavorare solo fianco a fianco con questo con questo signore già ovviamente di una certa età di grande autorevolezza io mi ero appena laureata in filosofia stavamo e siamo stati assieme assieme in banco si chiamavamo compagni di banco ecco e per otto anni di lavoro quello che viene fuori da tutte queste da questi saggi da questi da questi ricordi è certamente qualcosa che definirei un calore umano insomma con una vibrazioni affettive che sono la cifra anche della persona alla ricchezza alla straordinaria ricchezza e raffinatezza intellettuale corrisponde poi in realtà un di più ecco una qualità umana che secondo me è una caratteristica che vale la pena di sottolineare perché no altrimenti lui stesso scrive nella nella sua nel suo ultimo lavoro nella pubblicato nella mia la mia resistenza scrive appunto che le amicizie sono state in tutta la mia vita molto importanti e sempre mi hanno lasciato un'erevità di affetti e di pensieri vorrei fermare un secondo solo su questa edizione sulla diplomatica dei documenti resistenziali che viene messa a punto con l'edizione critica dei documenti delle Garibaldi del 79 non solo perché questo diventa anche il modello al quale poi sul quale verranno costruite anche la pubblicazione delle fonti dei documenti delle giustizie e libertà e delle brigate autonome ma perché in realtà è come è già stato accennato il lavoro preparatorio indispensabile al grande lavoro al saggio al grande saggio giustamente la Gabriella Nisticò ricorda che si è presa diciamo così la briga di andare a contare di fare una sediazione statistica sulle note del grande libro le note sono 200 pagine da qualche parte ho letto 300 ma deve essere un errore oppure c'è un'altra edizione sulla mia le note sono 200 pagine in queste 200 pagine le citazioni dei documenti delle Garibaldi sono un sesto che vuol dire che diciamo quel lavoro di edizione critica è in qualche modo un presupposto indispensabile per arrivare a sottolineo questo aspetto perché in realtà come ricorda sempre l'Agnistico quella pubblicazione pur straordinariamente rilevante passò quasi inosservata scarsa distribuzione da parte di Feltrinelli e dal mio punto di vista estremamente sottoutilizzata anche dalla storiografia della resistenza questa sottoutilizzazione ha anche l'esito paradossale di permettere la circolazione di grandi sciocchezze l'idea che per esempio la storiografia della resistenza sia stata diciamo sostanzialmente sia sostanzialmente riassumibile sotto la cifra della vulgata dell'oleografia almeno fino al grande libro del 91 il lavoro straordinario di non solo di filologia di edizione critica dei documenti ma l'approccio stesso alla questione resistenza a partire almeno dagli anni 60 e 70 che noi vediamo per esempio dentro anche dentro questi documenti delle Garibaldi permette dal mio punto di vista di pensare in realtà in termini estremamente più diciamo più seri alla genealogia di questo di questo lavoro la genealogia del grande libro è come naturalmente l'immensa libreria e la diciamo così la concettualizzazione storiografica più raffinata ma è anche la produzione di documenti la qualità di Pavone sta nel fatto di aver lavorato su tutti questi su questi piani ultimissima considerazione e poi mi fermo nella genealogia del saggio sulla moralità secondo me non si sottolinea abbastanza a volte che è proprio la diretta esperienza nel diretto personale coinvolgimento nella resistenza è un elemento in qualche modo decisivo direi quanto e più delle stesse tutta la cassetta degli attrezzi metodologici ecco e aggiungerei che è proprio la l'esperienza carceraria in particolare se noi rileggiamo con attenzione quelle parti della della mia resistenza vediamo che in realtà gran parte delle questioni che poi vengono concettualizzate come il problema della della moralità sono in realtà contenute ampiamente in in una serie di esperienze fatte fisicamente sul proprio sulla propria esistenza in qualche modo quando questo diciamo la resistenza di Pavone non è una resistenza fatta in banda è una resistenza in realtà condotta in maniera è soprattutto l'esperienza fatta in carcere oltre naturalmente alla scelta di impegnarsi ma quel carcere è il carcere dove come ricordo a lui c'era un sovrappiù di violenza e di tragicità questa tragicità consisteva nel fatto che negli otto mesi in cui lui resta a Castelfranco Emilia la possibilità di essere prelevato e fucilato come per rappresaglia diciamo è una costante è una costante è una costante che lo induce a chiedersi e sono tutti i rovelli diciamo etici che ritroveremo poi nel grande libro a chiedersi se sia giusto gioire di essere stato risparmiato quando sono 25 antifascisti nel braccio dei politici di Castelfranco 20 vengono prelevati e fucilati e 5 restano lì lui riesce ricostruisce a posteriori un rovello che in quel momento è densissimo e cioè da una parte la gioia di sopravvivere e dello stesso tempo avrei dovuto perché non sono con questi altri insomma è una dimensione dentro la quale in dieci mesi Pavone si trova a scrivere il proprio testamento ecco e con questo chiudo è un altro spunto insomma quando lui scrive questo testamento lo scrive perché pensa di avere e pensa razionalmente a maniera seria di avere poche probabilità di sopravvivere e scrive non ho mai avuto il coraggio di rileggerlo per il timore che non mi apparisse fino in fondo sincero perché mi sono venuto convincendo e questo quindi è il lavorio diciamo dello storico e dell'uomo nei decenni successivi mi sono venuto convincendo che è molto difficile essere davvero sinceri davanti alla morte in particolare quella violenta io ritrovo in quel testo disseminati un'infinita ricchezza di spunti di stimoli di questioni che verranno che sono come dire il libro sulla moralità viene scritto poi però in questa tensione costante fra il vissuto del 44 45 come questi problemi si depositano e vengono riaffrontati dentro il libro e come vengono rivissuti altri 15 anni dopo come dire è un'affascinante costante tensione alla verità che poi la definizione che possiamo dire quello che dal mio punto di vista è il denominatore di una straordinaria affascinante esperienza umana e intellettuale l'attenzione costante alla verità con la consapevolezza di non poterla raggiungere col dubbio metodico di essere diciamo così condizionati e frastornati dalla propria sensibilità dalla propria esperienza diretta lo dice lui con parole molto più belle nel nel primo libro di storia contemporanea è la già difficile prova della necessità di coniugare la consapevolezza di non poter essere obiettivi con il dovere di non essere arbitrari ecco mi fermo qua scusate se mi sono andato lungo grazie grazie anche a Santo Pelli avevamo chiesto in chat se vi erano domande o richieste di intervento non ha risposto nessuno quindi ora ridarei brevemente la parola a Mariuccia Salvati e Davide Pidussa per un altro intervento una replica un commento a quello che è stato detto da Mirko Carettieri e Santo Pelli o anche se vogliono intervenire su altro Mariuccia grazie grazie sono state trovo che siano stati tutti interventi estremamente interessanti e sui quali che forse verrebbe la pena di raccogliere penso perché dietro c'è una riflessione sui testi che arricchisce secondo me i punti di vista che sono stati qui espressi diciamo finora sono questo vale per per tutti quanti coloro che hanno parlato per Mirko Carettieri e tutti e tutti gli altri vorrei soltanto non ho molte cose da aggiungere penso appunto che sia importante riunirvi però c'è forse un pezzo che qui è mancato con Claudio ci siamo conosciuti in occasione dell'entrata nella rivista di storia contemporanea beh insomma ci siamo stati 15 anni ecco non è poco ed è il periodo in cui c'è sicuramente un incontro anche con i torinesi quindi con Bobbio con Sbarberi c'è sicuramente però anche il periodo in cui Pavone sta ragionando su sugli aspetti in gran parte sugli aspetti anche istituzionali e c'è allora l'uscita del volume noi lavoravamo alla rivista andavamo insieme questo che voglio dire e insieme cominciamo a lavorare per la Fondazione Basso e c'è un volume appunto su Fragio e Rappresentanza che ha rappresentato credo un momento importante di raccolta e di anche di rafforzamento di un'identità di Claudio come docente qui ci si chiedeva appunto come avviene questo passaggio ma certamente quello è stato abbiamo avuto appunto alcuni di loro sono qui e sono qui presenti diciamo alcuni studenti allievi allievi comuni in un confronto tra l'Università di Bologna in un rapporto tra l'Università di Bologna e l'Università di Pisa che è stato molto molto denso di frutti diciamo per coloro che ci hanno lavorato e per noi due perché da qui poi uscì il volume su Fragio e Rappresentanza Dico questo perché perché appunto credo che sia in quell'occasione che Claudio decise di come del resto diciamo decise di accettare appunto la sfida dell'insegnamento cioè di lasciare l'archivistica e fare il professore sì certamente come è stato detto perdendoci da ogni punto di vista finanziario ecco ma guadagnandoci moltissimo in termini di rapporti umani di rapporti di colleganza gli piaceva moltissimo insegnare e aveva una vera vocazione per l'insegnamento e quindi e quindi credo che quelli poi siano stati così anche i migliori anni ecco per lui e per il suo lavoro questo però appunto c'è stata questa riflessione che accompagna da un lato questo suo impegno politico ma che poi va a finire in una riflessione su insomma su che cosa per che cosa ci impegniamo ecco io nel quel gruppo politico non ci sono entrata ma un po' per che cosa ci impegniamo e e Pavone e Pavone ragiona ragiona da storico ecco ragiona soprattutto da storico e questi e quei saggi sono che sono stati appunto raccolti in quei volume su Fragio Rappresentanza sono che sono poi più volume perché ce n'era un volume che era insomma legato alla fondazione Basso poi uscirono saggi sulla rivista di storia contemporanea che erano saggi di allievi suoi a Pisa e miei a Bologna ecco quelli sono stati sono stati anni belli ecco sono stati anni belli e lì si è davvero speso moltissimo forse troppo per cui appunto il libro in quel momento è andato si è messo in disparte e a un certo punto ho capito invece proprio della discussione con Quazza e Bobbio che invece era lì che doveva tornare ma c'è appunto anche tutto quest'altro pezzo di storico delle istituzioni che appunto ovviamente era già venuto fuori benissimo nel volume di di Zanni Rosiello ma che appunto si incrocia con con la sua qualità di professore ecco è una bella insomma diciamo è un bel ricordo dell'università di allora e del legame che c'era tra l'università di Pisa e di Bologna e dietro la rivista di storia contemporanea dalla quale entrambi però ci siamo abbastanza allontanati ecco non ci siamo poi tantissimo ritrovati ecco con proprio perché proprio perché veniva crescendo questo nostro interesse ad una storia delle istituzioni che non fosse troppo transciane nel descrivere le rotture le svolte la continuità non la continuità cioè era tutto è sempre così intrecciato intricato nella storia ed è quell'intreccio che bisogna riuscire a restituire come lui ha fatto ma da questo punto di vista è vero Claudio è stato veramente un grandissimo professore e gli è piaciuto moltissimo insegnare quindi ci avrà rimesso dal punto di vista economico ma dal punto di vista morale sicuramente no grazie 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 se posso portare un ricordo personale Claudio un'ora prima dell'ora delle lezioni spariva si richiedeva nel suo studio per preparare la lezione anche se la lezione era una lezione al corso generale di storia contemporanea magari con i studenti del primo anno ma lui arrivava sempre con i suoi fogli i suoi appunti i suoi libri ed erano tutte lezioni non lasciate all'impronta ma preparate con grande coscienza e accuratezza e anche questo dimostra quanto l'insegnamento gli fosse proprio con geniale mi piacerebbe anche per questo che è riuscito poi a formare parecchi parecchi allievi Davide a dirvi la verità non ho molto da aggiungere anzi vi ringrazio per le cose da cui per certi aspetti ho anche imparato stasera io l'unica cosa che mi sentirei di dire è questa io penso che se noi dobbiamo portarci a casa un pezzo di mestiere diciamo così che viene fuori dall'attività di ricerca ma anche di sistematizzazione sulle cose che credo fosse un altro aspetto molto importante del rovello che aveva in testa Claudio Pavone nel farlo un mestiere una delle cose che dobbiamo portarci a casa indipendentemente da uno studio sui suoi saggi sia di capire come cosa noi lasciamo di un percorso fatto di usi documentali fatto di tracce fatto di appunti fatto anche di ritrovamento di fonti perché una delle cose diciamo che io temo di più io nella mia vita non ho mai insegnato la maggior parte del tempo l'ho passato a fare il direttore di una biblioteca è quello di sapere che tu in un qualche modo in questo primo capitolo di una guerra civile è fondamentale tu scegli scegli quello che compri scegli quello che conservi scegli quello che getti scegli quello che non terrai e che nessun altro troverà e quindi in un qualche modo uno dei temi grandi secondo me di quel mestiere e anche di quella domanda costante sul proprio mestiere è anche quello di formare come dire delle competenze di formare anche e di raccontare come per esempio sono state perse fonti o come si possono ritrovare alcune fonti che sono state buttate via perché magari in quel momento si pensava che per esempio non fossero essenziali e quello è un pezzo del mestiere che almeno io per alcune riflessioni anche per alcune modalità interessanti del lavoro di Claudio ho imparato molto e che mi sono ritrovato anche nella vita professionale cioè che quindi non riguarda appunto il mio mestiere in senso plateale di scrittore di cose di storia ma di gestore di un ente perché poi alla fine questa è un'altra grande cosa noi magari l'abbiamo detto poco però tutta l'attività che non riguarda solamente l'attività scientifica sulle Brigate Garivaldi ma anche semplicemente la guida a tutte le fonti dell'archivio di Stato cioè è un'altra fonte essenziale oggi di come tutti puoi muoverti che si deve in gran parte alla sua capacità organizzativa si deve in gran parte al fatto di aver messo a lavorare tante persone di averle motivate di avergli dato anche uno scopo che non era semplicemente quello di dire conservo delle cose anche come poi le ritrovo cosa ricavo da quelle fonti come quelle fonti mi consentono di fare delle cose come le posso utilizzare cioè lì c'è tanto come dire vocazione civile di un mestiere che spesso abbiamo perso e che secondo me invece è molto importante tenerci stretto Bene grazie grazie a tutti è stata una serata ricca di stimoli di spunti vedremo se possiamo raccogliere il suggerimento di Mariuccia di raccogliere in qualche misura questi interventi tutti molto belli e stipulanti mi pare che comunque la decisione di tenere lo stesso sia pure online con il premio Pavone e di collegarlo alla presentazione di questi volumi sia stata una decisione giusta che ci conforta nell'andare avanti a non rinunziare a fare incontri sia pure in periodi di distanziamento sociale come si dice ringrazio tutti i partecipanti sono stati poi tanti un centinaio molti sono rimasti finora che ora tarda e vi do appuntamento ai cantieri della resistenza che speriamo di poter invece tenere guardandoci non solo negli occhi tramite uno specchio un computer ma stando a distanze ravvicinatissime neanche cenando e bevendo insieme grazie a tutti e buona serata grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti